Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua per spiegarvi un po' la situazione visto che stiamo continuando a portarvi i contenuti sul calcio a 5 ma è da un po' che manca il calcio a 11 e state continuando a chiederci come mai e cos'è successo con il consandolo e con il calcio a 11 Eh sì, comunque partiamo da una premessa ragazzi, molti secondo me non hanno visto il video di apertura di questa stagione in cui il focus principale sarebbe stato portare calcio a 11 e calcio a 5 quindi partiamo da questa premessa, nonostante questo quando è uscito il primo video, quello dell'esordio di Fabio con la maglia del Rovigo tantissimi hanno scritto ma hai abbandonato il calcio a 11, sei tornato al calcio a 5 ragazzi no, ripeto, l'obiettivo è ed era portare tutte e due perché era, lo andiamo a spiegare Fabio? Sì l'obiettivo deve essere quello di portare entrambi quindi sia calcio a 5 che calcio a 11 usando il doppio tesseramento però recentemente abbiamo avuto problemi con la squadra di calcio a 11 ovvero il consandolo Allora ragazzi, piccola premessa, non è una cosa che dipesa da noi, anzi la nostra volontà era quella di rimanere al consandolo di vedere come andassero le cose, abbiamo accettato, o meglio Fabio ha accettato il fatto che giocasse di meno per via del fatto che comunque facesse entrambe le cose, sia futsal che calcio a 11 quindi diventava difficile essere presente col gruppo a squadra nonostante questo, e comunque l'aver giocato poco, siamo continuati ad andare con la squadra tutte le domeniche però per il mister non era una cosa positiva il fattore riprese, anzi pensavo fosse un malus per la propria squadra anche perché a suo dire poi le formazioni avversarie potevano intercettare le informazioni la domenica e inoltre l'influenza mediatica che girava intorno alla squadra per lui non era un qualcosa di positivo tu invece come l'hai vista all'interno del gruppo fa? sì comunque all'interno dello spogliatoio mi sembrava che facesse piacere a tutti il fattore delle riprese come è sempre stato in ogni squadra in cui sono stato e inizialmente era così anche per quanto riguarda il mister che poi si è ricreduto in un secondo momento quando ha visto anche l'altra faccia della medaglia e certi aspetti negativi che ne derivavano il fattore principale sicuramente come ha detto anche Antimo è il fatto che comunque le squadre avversarie vedessero i nostri video e potessero studiarci poi ovviamente con il doppio impegno tra futsal e calcio facevo anche fatica ad essere molto presente con il gruppo, con la squadra ed infine era anche non ben visto diciamo il fatto di essere mediaticamente esposti e che ci fossero dei commenti negativi sia riguardo il mister che riguardo la squadra e pensava che potesse destabilizzare il gruppo eh sì prima comunque accennavi al fattore allenamenti, futsal, calcio a 11 aggiungerei che inoltre come se non bastasse alla fine siamo un po' dei piccoli personaggi pubblici non siamo a livelli eclatanti però comunque siamo oberati di impegni c'è la Got League, la Youtuber League piuttosto che fare video con altri influencer e questo ci porta via ulteriore tempo quindi a fronte di questo è normale che facessimo entrambe le cose un po' più per uno scopo ludico, per divertirci ma non era proprio così per il mister del Consandolo nel senso, mi spiego, l'allenatore del Consandolo comunque voleva che tu prendessi una decisione se continuare la tua carriera diciamo così da influencer piuttosto che quella da calciatore però sinceramente in promozione diventa un po' difficile vivere solamente facendo il calciatore sì diciamo che il mister ci ha messo di fronte a questo bivio se scegliere o fare video oppure continuare a giocare a calcio e onestamente pensavo che non ne valesse la pena anche perché per quanto riguarda il calcio è sempre stato preso bene da tutte le società il fatto dei video e quindi secondo noi non ne valeva la pena fare solamente il calcio, solamente poi in promozione e siamo scesi di categoria anche perché pensavamo di poter essere più liberi rispetto ad un'eccellenza dove invece può essere preso più seriamente eh sì anche perché una cosa che molti non sanno Fabio qualche anno fa è stato chiamato anche la società di eccellenza che ambivano a vincere il campionato poi purtroppo per via della situazione patente che non l'aveva non siamo riusciti ad andare e abbiamo sempre brancolato in società che non ci hanno fatto troppo bene però in ogni caso il discorso è quello non si può scegliere sicuramente se fare l'influencer o fare il calciatore soprattutto perché raga siamo in promozione non siamo in Serie A e forse c'è anche troppa professionalità per un ambiente che per carità professionale è ma un po' troppo a dispetto della categoria cioè questa forse è una dinamica che intercorre in parecchie società seppur alla fine nessuna squadra fino ad ora fino al consandolo ci aveva proibito di fare video sì innanzitutto penso che il fare l'influencer o comunque fare video su YouTube non comprometta l'attività calcistica anzi ho sempre cercato di fare il massimo per la squadra a prescindere dai miei impegni da youtuber se vogliamo metterla così quello che poteva dar più passio sicuramente era il fatto del futsal di fare entrambi contemporaneamente però in primo luogo è stata accettata dal mister infatti non so quindi sì la cosa che ci ha un po' sorpreso è il fatto che ha cambiato idea su certi aspetti ha detto o questo o l'altro sì che poi alla fine chi ci vede non vede passami il gioco di parole gli allenamenti quello che succede durante la settimana e comunque eri anche molto ben visto dal mister cioè nonostante nell'ultimo periodo tu avessi giocato poco il mister credeva molto in te e appunto per questo voleva che tu prendessi la strada da calciatore però ripeto attualmente visto che comunque il nostro lavoro è anche fare youtube anzi soprattutto fare youtube nell'ultimo periodo grazie a voi che ci avete sostenuto tra l'altro abbiamo raggiunto il traguardo di 100.000 iscritti vi ringraziamo e vi ricordiamo di iscrivervi ancora per chi non l'avesse ancora già fatto poco altro da aggiungere Fabietto cosa diresti un commento secondo te in generale proprio sulla faccenda società e anche secondo te che differenza c'è tra il futsal e il calcio a livello di ambiente sì una cosa che a me sinceramente non piace troppo del calcio è che magari anche se si scende molto di categoria anche in seconda in prima non so se anche in terza è così si cerca molto la professionalità nonostante sia una cosa secondaria uno nella vita non fa il calciatore se gioca in prima categoria anche in promozione anche in promozione mi piace molto il fatto che venga pretesa una professionalità che vada oltre penso quello che invece possa essere dato dai calciatori quindi secondo te c'è proprio una differenza a livello di approccio nei riguardi dello sport alla fine dell'anno scorso sei stato in serie B di futsal quindi comunque un contesto professionistico quest'anno sei in serie D ma comunque in una società che vuole vincere il campionato quindi il livello e le ambizioni sono comunque buone però quale differenza hai constatato invece nel 5? sì vabbè ovviamente in tutti gli sport viene richiesto il massimo impegno come giusto che sia però penso che allo stesso tempo i giocatori devono essere lasciati liberi di percorrere anche altri impegni come per noi può essere YouTube per me anche l'università e quindi è normale che una persona non può fare solamente quello nella vita assolutamente anche perché proprio come dicevamo poco fa tu ora stai vivendo anche un po' la tua carriera da YouTuber da personaggio pubblico insomma stai facendo tantissimi eventi questo ci fa piacere ripeto grazie a tutti coloro che ci seguono anche questo occupa tante energie fisiche e mentali per l'università di scienze statistiche per chi non lo sapesse quindi sottoscrivo anche gli impegni di Fabietto che li conosco quando a casa studia sempre quando è fuori comunque si dà da fare col calcio a 5 calcio a 11 va agli eventi quindi davvero si fa un mazzo tanto lo dico da fratello io sto sempre a montare lui sta sempre a girare però siamo una squadra e purtroppo non ci possiamo disunire siamo stati costretti a prendere una scelta ripeto non per volontà nostra perché noi volevamo portare entrambi i contenuti così come abbiamo detto nel video che abbiamo fatto un mese fa per chi non l'avesse visto vi invito a vederlo un video che si sono cagati in pochi tra l'altro quindi guardatevelo così capirete meglio qual era il piano di questa stagione questo video uscirà ovviamente dopo perché basta raga questo fatto calcio a 5 calcio a 11 però ecco volevamo un attimino esplicarvi quelle che erano le nostre ragioni e i motivi per i quali non vedete più i video reconsandolo e siamo ritornati anche alla programmazione dell'anno scorso il lunedì i contenuti secondari e il giovedì il futsal il format che sta piacendo tantissimo a voi questo ci fa ovviamente tantissimo piacere e adesso invece cosa facciamo Fabio? si per ora con il calcio non possiamo fare nulla visto che gli svincoli e i trasferimenti sono aperti dal primo dicembre ci hanno già fatto sapere che non ci faranno problemi speriamo per lo svincolo e niente nel frattempo vi porteremo i contenuti secondari sia che riguardano il calcio sia che non quindi consigliateci anche nei commenti cosa fare cosa portarvi cosa vi piacerebbe vedere io due o tre idee su Fabietto ce l'ho si discostano totalmente dal pianeta calcio qualcosa di cringe trash e Gilbert Nana che però può piacere tanto beh infatti posso dire che le idee di Antimo non mi piacciono quindi suggeriteci altro per favore no 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 faremo le mie idee ragazzi e vi piaceranno un botto ne sono sicuro e quindi poi vedremo da dicembre se avremo l'opportunità di firmare con un'altra scuola di calcio non possiamo prenderci un impegno troppo grande per quanto riguarda il tempo speso ma il mio impegno a livello ovviamente di calciatore a livello calcistico sarà sempre massimo eh sì assolutamente vi garantisco che a prescindere dalla categoria Fabio si impegna sempre tanto da tutto quello che ha ha bisogno anche di essere stimolato questo lo dico contro di lui quindi qualunque società fosse interessata poi dopo deve investire e deve credere in Fabio come normale che sia come ha fatto anche il Rovigo tra l'altro piccola parentesi ti stai trovando davvero bene lì si vede che sei al centro del progetto e tutti ti amano e questa è una cosa che sicuramente ti aiuta anche a farti risaltare e a darti una mano anche a uscire fuori caratterialmente quindi noi adesso col calcio ci fermiamo almeno fino a dicembre qualunque società fosse interessata contatti Fabietto in direct e basta adesso tutte le energie mentali verranno impiegate con il Rovigo in Serie D di Futsal perché c'è un campionato da vincere un obiettivo comunque importante e poi dopo ripeto da dicembre in poi ci guarderemo la priorità è il Futsal sì quindi direi che abbiamo detto tutto non abbiamo nient'altro da aggiungere eh sì diteci cosa ne pensate nei commenti diteci qualche vostra opinione in generale eh sì fateci sapere anche quella che è la vostra situazione per quanto riguarda il pianeta calcio e cosa ne pensate nei riguardi delle società e del loro approccio nei riguardi magari delle nuove piattaforme social come YouTube non siamo gli unici a portare questo tipo di contenuti e sappiamo anche con altri colleghi che non è proprio facilissimo portare il content del calcio nel pianeta calcio seppur voi lo vediate tranquillamente poi in rete sì diciamo che noi non abbiamo mai avuto problemi prima di adesso però siamo stati fortunati direi perché ci sono davvero tante società che non prendono bene le nuove piattaforme e allora ragazzi noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere fateci sapere la vostra proprio come abbiamo detto poco fa e per il resto ci diamo appuntamento al prossimo video a giovedì che si ritorna col Futsal si ritorna col Futsal mi raccomando guardate il video giovedì al prossimo video ciao ragazzi ciao